Il Bocconotto di Castelfrentano di Maria Angelucci vince il trofeo Memorial Adriana Agostinone sulla torta all'arancia di Antonietta Ferrante. Cosa ha avuto di più questo dolce? Lo chiediamo proprio a Mimmo D'Alessio, vicepresidente nazionale vicario dell'Accademia Italiana della Cucina. Intanto partiamo da un assunto che tutti i dolci presentati erano tutti eccessivamente molto buoni, davvero fatti in modo perfetto. Il Bocconotto che chiamerei più di Castelfrentano della signora Maria era particolarissimo perché la giusta friabilità, il giusto equilibrio tra il cioccolato e il... Qualcuno addirittura ha detto perfetto. Aggiungerei più che perfetto, per cui è stata la giuria unanimamente, poi tutti si sono espressi, non c'è stata battaglia per il primo premio all'unanimità, per cui è stato davvero un bel risultato, ma un bel risultato per tutti i dolci che sono stati presentati. Che cosa rappresentano i dolci nella cucina italiana? Beh, allora, diciamo che il dolce, oggi come oggi, è un qualcosa che fa parte del pasto quasi giornaliero. In realtà nel passato il dolce era un qualcosa di comestibile in un momento speciale, quindi nel momento della festa. La stessa dieta mediterranea parla di una serie di prodotti, ma non parla di dolci. Per cui diciamo che il dolce è un qualcosa di speciale che accompagna le feste e quindi è un pezzo di festa anche per il palato. Lei l'ha conosciuta in vita, Adriana Agostinone? Che donna era? Che casalinga era? Che artista era? Allora, l'artista io l'ho appreso stasera perché non sapevo che lei fosse anche pittrice. Devo dire che aveva una sensibilità particolarissima, pensandoci col senno del poi, poi diceva, questa sicuramente qualcosa di artistico aveva. Ma devo dire che tutte le volte che l'ho incontrata, tantissime volte, la costituzione partecipava con lo spirito di cucinare per amore. Traspariva in lei questo fatto di, non di essere un concorrente a una casa, per il piacere di offrire un qualcosa fatto con le sue mani, con la sua scienza, con la sua conoscenza, con le sue tradizioni, per offrirle alle persone, alla giuria e agli altri ospiti. Un po' come fa la mamma quando cucina per la mamma, la nonna quando cucina per i propri figli, per i propri parenti. Ecco, questo era Adriana Agostinone. Era qualcuno che cucinava per amore. Quando l'ultima volta ha vinto il campionato nazionale di cucina per Casalinga, è lì caduta quasi dalle nuvole, perché non ci credeva, non ci pensava, non ci sperava, sono convinto.